Sovriamo, mette il letto perché sono giocato. Amo, no. Signori e signori, eh, siamo in queste pubbliche a piacere, perché mi sono andata a spazio, e mi sono andata a spazio, e mi sono andata a spazio. È importante? È importante. È riposato? No. Signori e signori, questa sera vi presentiamo il grande capolavoro di Vittorio Arpiano, Antonio e Cleopatra. Antonio Gatti. Antonio Gatti. Siamo avanti Cristo. Cristo non c'è, avanti no. Cristo, avanti Cristo, è natata. Ah, è natata. No, è natata. Antonio. A te. Che è un generale romano, amico intimo di Giulio Cesare, se lo vede morire a causa dei sigari. Ma ci sembra il tuo fumaccio? O come dei sigari? Già no. Giulio Cesare si fumava i sigari e perciò morò. Eh, morò. Morì, tra passato. Morì? Eh, perché non si diceva orì, passato? Scusa, ma non è, 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 non è. E poi i romani, i romani non si fumavano, che si fanno? Eh, perché fumavano? Perché i romani non fumavano. Oh. E il fumo lo portò Marco Polo dalla Turchia. Oh, ecco perché si dice allora, tu fumi con mano turba. Bravo, hai capito, bravo, bravo. Eh, chi fumo che io non so? Eh, io non so. Tuoi turba! Eh? Andorio, alla vista del morto, dice tra sì e sì. Eh, per Bacco. Bacco, era un dio pagano. Ah, era pagano. No, era in un certo. Denta. Eh. Eh, ora mi aspetti il posto. Certo. Allora, non me lo posso. Beh, già allora c'era il problema della disoccupazione. Eh, no. Ah, addirittura aspettavo una camoreta che qualcuno lo possa pigliare subito. Non stai a mentare, mi chiede. Eh, no. Eh, no. E spetti il posto di Cisare. Eh, non me lo posso. Eh, 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 eh. E per farsi bello con i Romani, decise di attaccare l'Egitto. Bravo. Che era governato da una femmina, Cleopatra. Così, vince la guerra, ma quando la vede, sospira alla faccia del Cassio, c'è un'ora, dicevano sti male parole a Moria. Ma Pazio erano amici di Antoni. Ma non è se non me che è l'amore. E la giocinà di Pano veniva il Cassio e il papà non c'ha fatto. No, chiamolo Ronzio. E così squirarono le trombe dell'amore. Eh, sì. E trombe oggi e tromba domani. Antoni adorato regala tutte le sue province romane a Cleopatra. Ma Roma, non perdono. Ma anche ora. E qui comincia la nostra storia. Come state stupendo? State bellissime. Ah, la sono fatta tutta. Eh. Oh, che cazzo ulo? che cazzo ulo? Che cazzo ulo? Che cazzo ulo? Pronti. Avanti. Signora, venite. Avanti, avanti. Avanti. Allora. Pronti. Via. Venga, te hoppa! e non vediamo mio padre Greco ma è uso il senso della primo padrono con grande attenzione e ecco qui ci scrive con il nuovo congelo e lo so La gravità di tensione, l'area è la gravità. Allora se è gravità mangiava il cibo, quindi vuol fare avanti. Non vuol uscire, non vuol far scegliere da tuo padre. L'area è la gravità di tensione, non è l'area, è la partita. Allora, 3 a 4 è addolorata. 4 è addolorata? Non è addolorata. È addolorata, ma non lo devi dire. E per chi? Perché non è una battuta, è mostrato danno. Ma te lo capite che era un po' addolorata. No, no, non è addolorata, non è molto. Ma addolorata è lo stesso, non lo farò addolorata. E si! Ma come fa? Che farò, giusti dei? Che farò, giusti dei? No, non lo farò, non lo farò, non lo farò, non lo farò. Che farò, che farò? Che farò, giusti dei? Scappo, non vengo. Mi raffiguro in mente un barabiglio. Mi raffiguro in mente un barabiglio. Ogni periglio! Ogni periglio, ogni periglio! Ogni periglio! Mi raffiguro in mente ogni periglio! Stolta, son io! No, papà, questo non lo voglio dire. Ma perché? Ma perché Cleopatra era storta! No, signora! Storta vuol dire storta, vuol dire malamente! E quello ha detto storta! Non ha detto storta, ha detto... come avete detto? Stolta, son io! Ora, hai detto storta, cerchiamo di essere a te! Andiamo, andiamo, andiamo! Stolta, son io! A di una freddenda maccarina pagata! Oh, padre! Ecco lo sai! Ma c'è Cleopatra! Ah, guardi ciò! Ma anche il papà che stava a Parma! Cleopatra stava ad Alessandria! Alessandria? Ma non è possibile, maestro Alessandria! Sta vicino a Torino! Noi abbiamo il fratello di papà che ha preso il posto alle volte proprio là! Mi ricordo che ci scrivevo sempre! Capano potente più fritto! Come sono viste mutandolo! E' vero! E' vero! C'è un'Alessandria in Piemonte dove il clima è molto rigido! Ma c'è un'Alessandria in Egitto dove risiedeva la dolce Cleopatra! Ma quante cose che sapete maestro? Signorino, modestamente, ho studiato al conservatorio! E' affagluto, o due? E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! L'amore e il regno ambo mi pare di aver perduto! L'amore e il regno ambo! E' vero! Ambo mi pare di aver perduto! Papà, ma con tutti quelli qua da neve, Cleopatra si metteva a giocare l'ambo! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! L'ambo non sono i numeri che escono sulla ruota del bangolotto! Ah no maestro! E che sono? Ambo nel caso specifico! Vuol dire ambedue! Tutte e due le cose mi pare di aver perduto! L'onore e il regno disse, Cleopatra! Maestro! Ma quante cose che sapete! Ma siete sposati? Io... Maestro! Poi quindi dovete fare una cortesilla per intervenire quando registto tale sua è suzione! No! Vaccina il pieno sub il verbo polymer 60. Vaccina il pieno sub questo ne ha bisogno! Vaccina il pieno su questi verbo Occ люб embark 60. Vaccina il pieno sub questo verbo coglierla! No, non taglia! Scendo verbo no, non scenda non taglia ma non stai... Ma scusate! Ma che poti sono questi? E penso ora che state dando fastidio alla mia fidanzata! A me? Sì signore! Io la fastidio alla vostra fidanzata? Ho visto che stavate facendo il senso con il vostro ciliguano! Ma chissà che lei può parlare! E tu? Ti ho visto che stavi facendo la Cleopatra con questo biquino curioso! Ma io non ci ho fesso! Si ho per essa mia mamma! Guarda che ti dico! Io ti lascio! E un altro come me non lo troverai più! Norma! Ti hai perduto l'occasione! E' il magno del limone! Dove trovi un bel maschione? E' il magno del limone! Io mi trovo! Una ragazza! Non c'è… Ma... ma? Si... ma lo stai dissi! Che di cosa? Caro Dile Du? Grazie.